L'assessore con dichiarazione sulla stampa ritiene che questa è una norma che deve essere recepita dal governo regionale. Noi come organizzazione sindacale riteniamo che queste norme già ci sono, sono scritte nei contratti e danno la possibilità al dirigente e ai vari funzionari di poter operare per eventuali sanzioni o licenziamenti per chi non si attiene un po' alle regole che sono legate un po' alla timbratura del cartellino o che si assenta in maniera ingiustificata dall'ufficio. A Renzi chiediamo basta annunci e applichiamo le norme che già sono riscritte nei contratti.